Un buongiorno con Mattino 6, venerdì 10 gennaio, oggi sulla nostra rassegna stampa, sui quotidiani la tensione è tutta ancora sulla geopolitica perché aumenta l'escalation di violenze e di tensioni in Libia dove Haftar ha rifiutato la pace proposta da Serraj, ma anche per quanto riguarda la questione iraniana perché il volo di linea ucraino che è caduto nei giorni scorsi, secondo Donald Trump e Trudeau, il primo ministro canadese sarebbe stato abbattuto da un missile terraria iraniano, probabilmente fatto partire per errore, dicono anche di avere le prove ovviamente questo non fa che complicare gli scenari geopolitici, ma anche in Abruzzo dove continua l'emergenza traffico oggi a Silvio è previsto un tavolo tecnico tra le istituzioni, i comuni interessati da questo problema, l'Arta e vedremo insomma se uscirà fuori una soluzione concreta. Allora andiamo subito in Abruzzo sulla prima pagina pescarese del centro, proprio con questa notizia nel taglio alto in Cubocode in A14, il ministero assicura interveremo, il questore di Teramo oggi file record e ancora in primo piano tassa rifiuti, caos sui pagamenti, Pescara, comune in difficoltà per calcolare le tariffe prima rata a marzo, nella fotonotizia la visita del presidente della regione Marsilio Arrancitelli Marsilio e Marsi Arrancitelli e confronto con i cittadini dopo l'assassinio di Capodanno, proprio al ferro di cavallo e ancora influenza, emergenza all'ospedale, Pescara, reparti sovraffollati e posti letto nei corridoi pazienti trasferiti altrove. Sempre a Pescara un ispettore dell'ASL è sotto processo per corruzione ed è stato sequestrato un centro abusivo di scommesse. C'è anche spazio per la politica internazionale, Teran nega, a proposito di quello che dicevamo poco fa, l'aereo ucraino forse abbattuto da un missile iraniano. Adesso staremo a vedere se effettivamente usciranno le prove decantate dai due capi di Stato d'oltreoceano. Andiamo sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. A Chieti di Stefano lancia la corsa sindaco, il candidato della Lega guiderò Chieti, sì al patto con l'università. Nella fotonotizia i maestri della cucina, la nostra forza è la qualità, dicono i costoro che vedete in foto, che sono stati premiati in prefettura. A Lanciano, Pupillo, Scuole e Strade, tutti gli obiettivi, San Vito, prostitute nel circolo, tre denunciati, a Vasto autobruciate, c'è una donna nel mirino. Ma in basso la cronaca, uccise due giovani, era ubriaco e drogato. Chieti, genitori di una delle vittime, il conducente killer già ridata la patente. Andiamo avanti sulla prima pagina di Teramo. Ovviamente l'attenzione è tutta sul traffico, perché questa questione riguarda principalmente il tratto costiero teramano. Code a 14, il ministero, interverremo. Il 13, il parere per il dissequestro di viadotti. Oggi allarme tir fino a Mosciano. La fotonotizia, aperta la scuola antisismica donata dalla Croce Rossa. Ma ancora spazio per quanto riguarda la crisi della popolare di Bari. Il sindaco d'Alberto dice il salvataggio. Tuteli Teramo. Ancora sicurezza da Spurbano, da febbraio a Giulianova, la misura cautelare introdotta col decreto Minniti, dopo essere stata sperimentata negli stadi. Teramo. Privati pagano per errore la luce pubblica. E ancora Teramo, azzerato il vertice della Ruzzoreti. Teramo, dopo Forlini, si rimettono Cognitti e Grotta. La parola passa ai sindaci. La prima pagina dell'Aquila di Avezzano e di Sulmona. All'Aquila rifiuti, sequestri e quattro indagati. Operazione dell'antimafia svela collegamenti con la Campania. La fotonotizia, Casini e tutti gli assessori. Vogliamo finire il lavoro a Sulmona. La sindaca ha deciso a evitare la crisi. All'Aquila, la prefetta, sarò al servizio della comunità, ha detto la nuova insediata. All'Avezzano, tributi e vasi, niente licenze. Primorosi, Campotosso, ricostruzione post-sisma, da tre anni al palo. Ma torniamo sulla cronaca. Morte di Sara, arrestato l'amico di Ayub, preso a Celano. Era nell'auto con il Marrocchino, che ha provocato l'incidente. Andiamo avanti sulla prima pagina abruzzese del messaggero. Marsilio, pronti a bloccare i tir, ha detto il governatore, per esercitare pressione sulle istituzioni, affinché si trovi una soluzione. Incubo in autostrada, il governatore contro il traffico pesante che si riversa dall'A14, viadotto del Cerrano. Per la sapienza è sicuro. Ipotesi in riapertura con mezzi scaglionati. Intanto, solamente due giorni fa, la procura di Avellino ha respinto le istanze di dissequestro presentate da Aspi. All'ospedale influenza troppi malati, i pazienti di Pescara trasferiti a Chieti. Ragazzo precipitato, il dolore degli amici, ritorno a scuola. Due di loro sono riusciti a vederlo al Mazzini, ancora misteriosa, la caduta dal quarto piano. Doni sospetti, ricotta e legna, ex maresciallo finisce nei guai, ma la fotonotizia è dedicata al crack della popolare di Bari. Masci guida la protesta, il sindaco del capoluogo adriatico chiama i colleghi. Andiamo avanti sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Congelata la presidenza del IZS, l'avvocatura regionale stoppa la nomina dell'avvocato di Giacinto e Marsilio riunisce la giunta. Nella fotonotizia a Montorio, presepe di macerie, a Faiano la natività che racconta il terremoto. La viabilità, sicurezza per i blocchi in autostrada, spiraglio per i blocchi in autostrada, sicurezza, Ministero e Aspi decideranno lunedì. Nel taglio alto la questione della Ruzzoreti, dimessi anche con Nitti e Grotta, a mostra astuta verso Dalberto, il sindaco di Teramo. Intanto all'Asl, nuovo direttore generale entro la prima decade di febbraio, ecco i candidati che potranno succedere allo scomparso Fagnano. E ancora la questione annosa ormai della fusione delle Camere di Commercio dell'Aquila e di Teramo, Lanciotti, il presidente di quella teramana, respinge il pressing. Infatti l'interesse alla fusione proviene maggiormente dal capoluogo abruzzese. Concentriamoci anche sulla popolare di Bari, perché il sindaco d'Alberto, che vedete qui in foto, è stato ascoltato alla Camera dei Deputati. Ha detto che la forza di Tercas sia occasione di rilancio per la popolare di Bari. Approfondiremo in seguito questa questione, ma adesso usciamo dai confini regionali. Andiamo sui quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera, che come detto l'attenzione è ancora tutta sulla politica estera. Di Maio, Libia, basta attacchi al Premier Conte, il ministro. L'Europa parli con una voce sola, Sarraj dice sì alla tregua, ma Haftar la boccia. Haftar è anche il leader libico, riconosciuto dall'Unione Europea. Nella fotonotizia, le commemorazioni per l'aereo precipitato in Iraq, il Canada e gli Stati Uniti. Ci sono le prove, aereo caduto Trudeau, accusa colpito da un missile iraniano. Trump si fermi sul nucleare, pronti a trattare, ha detto il vicepresidente di Teheran, cercando di smorzare i toni. Infatti, la controffensiva di Teheran, oltre a questa questione misteriosa dell'aereo ucraino, è stata più una dimostrazione di forza che un rendere esplicita la guerra, nel senso più letterale del termine. Intanto, un'intervista a Romano Prodi, io in futuro al Quirinale, mi piaceva stare a Palazzo Cheggi, ha detto l'ex presidente del Consiglio. Lo strano caso di Salvini, se ritrovarsi sotto processo, porta più voti. L'editoriale del Corriere, secondo cui il leader leghista potrebbe trarre vantaggio anche da questa situazione. Ma andiamo sul Repubblica, a rischio 200 gallerie, l'allarme del Consiglio dei lavori pubblici in tutta Italia, tunnel fuori norma, andavano messi a posto mesi fa. Torna la polemica su autostrade, in Abruzzo lo sappiamo bene, il Movimento 5 Stelle revocare la concessione, mentre Conte e il PD, per evitarla, abbassino i pedaggi. Visto che i proventi dalle concessioni dell'autostrade sono altissimi, ma evidentemente, come afferma la Procura di Avellino, i lavori di manutenzione non sono stati fatti in maniera corretta. Referendum sui parlamentari sfida all'ultima firma. E ancora, il Boeing ucraino abbattuto dall'Iran, Libia Haftar dice no alla tregua e va all'offensiva. Questa è la panoramica di Repubblica sulla politica estera, ma anche la questione reale in Inghilterra, ira della regina dopo lo strappo dei principi, il regno diviso da Meghan, che vedete in foto, ha sottratto Harry alla nonna e alla corte per inseguire una vita senza privilegi, perché lei con il rampollo Harry della Casa Reale hanno affermato di voler rinunciare al privilegio aristocratico per campare da soli. Strage di Bologna, ora si aggiunge un pezzo di verità alla bomba neofascista alla stazione di Bologna, commissionata dallo Stato nell'ottica della strategia della tensione. Andiamo sul messaggero, Haftar alza il prezzo per la tregua, Caos Libia, Serraj dice sì allo stop delle armi, il no del generale che continua l'avanzata. Conte Di Maio, vertice dopo la gaffa diplomatica, trattativa a Roma tra Tripoli e gli Stati Uniti. La fotonotizia, vedete i resti dell'aereo ucraino, l'aereo battuto da un missile, Trudeau o le prove, è iraniano, la contraria contro il getto ucraino, Trump qualcuno ha sbagliato. Intanto torniamo in Italia, su Suppletive a Roma, uno il PD pensa a Gualtieri, c'è il Via Libera di Renzi, si vota il primo marzo, ma la questione è una questione cara ai 5 stelle, Cannabis Light, blitz dei 5 stelle per l'ok nel mille proroghe, mossa dei grillini dopo l'ok della Cassazione, l'emendamento fissa la soglia legale allo 0,5%, ovviamente si parla della percentuale di THC concessa nella pianta. Intesa viminale comuni, stragi, vigili in strada contro alcol e droga. Andiamo avanti sul tempo e quotidiano romano, solo spiccioli per i terremotati, uno scandalo, il titolo vuole eclistarsi, ma eccolo qui, uno scandalo che non ha fine, ci sono più di 2 miliardi stanziati per la ricostruzione, ma in 3 anni usati 49 milioni, sono approvati 2.291 interventi, ma quelli realizzati sono stati solamente 15, tutte le scuole per pochi alunni, nemmeno un'opera conclusa con gli sms 2016 degli italiani, sotto accusa ora sono gli enti locali, la vignetta di Oscio a centropagina, vediamo un sexy Zingaretti, l'ultima di Zingaretti divise sexy alle infermiere, direi che questo è un modo piuttosto ambiguo di incominciare quest'oggi la giornata. Ma andiamo avanti sulla questione viabilità, l'ite nel governo su autostrade, se la politica è succube di chi la finanzia, ovviamente, si parla dei Benettoni, dati Istat, occupazione da record mai così alta dal 1977, c'è da dire che nei dati Istat risulta occupato anche chi lavora un'ora a settimana o una settimana al mese, quindi sono comunque dati interpretabili. Londra in uscita anche dall'Erasmus, la vignetta di Oscio, eccola qui, quindi i nostri giovani non potranno più venire a fare lavapiatti, sembra dire conte al primo ministro inglese Boris Johnson. E intanto l'Apple sbarca in centro, Megastore a Via del Corso a Roma, l'ennesima filiale della multinazionale. A stampa, Genova, indagini nel shock, a rischio 200 gallerie sulle autostrade italiane. La finanza, standard di sicurezza europei non rispettati e pochi controlli. Sulla A10 si stacca un altro pezzo della protezione interna di un tunnel, perché ovviamente la questione non riguarda solamente autostrade per l'Italia, ma tutte le concessionarie che fanno, lo ripeto, proventi record, senza effettuare la manutenzione. 5 Stelle, la rivolta contro Di Maio e Casaleggio, ci sarebbe un documento dei senatori. E intanto la fotonotizia dedicata alla questione libica, vedete in foto il generale Khalifa Haftar. Libia, Haftar rifiuta la tregua, combattiamo i terroristi. Andiamo avanti sul manifesto, il quotidiano di ideologia comunista. Il muro di Londra, la Camera dei Comuni decreta lo stop al programma Erasmus. Gli studenti europei non potranno più migrare in Inghilterra, respinta la mozione delle opposizioni che chiedevano il mantenimento. La miopia della Brexit nell'era di Boris Johnson, marcia spedita. E a questo proposito c'è qui un editoriale di Marco Bascetta, l'europeismo libero e dal basso dei giovani cervelli. E ancora la questione USA-Iran, il gioco pericoloso della guerra, sfugge di mano a Trump. Trump dialogante, l'Europa è muta, secondo il manifesto, crisi USA-Iran. L'Ucraina accusa il nostro aereo colpito da un missile. Quindi è una accusa pesante, supportata non solo dai leader canadesi e statunitensi, ma anche ucraini. Intanto sulla guerra libica l'Italia loda la tregua, che però non c'è. Il taglio dei parlamentari, il balletto delle firme, manovre sui due quesiti, il referendum, la trappola del sì o no, sul numero dei parlamentari. 5 Stelle, i senatori picconano Drusso e Di Maio. E intanto è deceduto Italo Moretti, un cronista dei regimi dell'America Latina. Andiamo avanti sul mattino, il quotidiano di Napoli. Veleni 5 Stelle, la resa dei conti contro Di Maio e Casaleggio. I senatori Luigi scelga tra governo e partito. Anche Russone, il mirino. Prescrizione, buona fede apre, no di Italia Viva. Referendum parlamentari, caos firme. Ancora la fotonotizia. L'aereo caduto tra i missili sparati dall'Iran, i sospetti dell'Ucraina. Trump è cessato un errore. Intanto in Nord Africa, tregua in Libia. Aftar alza il prezzo ed è scontro sul petrolio. L'Italia ha perso la bussola, secondo l'analisi del mattino. E ancora l'inchiesta del quotidiano partenopeo. Noi bevi alcolizzati tra sbronza a dieci anni e botte alle mamme. Viaggio nel centro alcolisti anonimi di Napoli. L'età dei nostri assistiti si è molto abbassata. E intanto ancora la sentenza sulla strage di Bologna. Ergastolo a Cavallino e il quarto dei Narra, il gruppo neofascista operante negli anni 80. Andiamo avanti sulle 24 ore. Il quotidiano economico-finanziario. Progetto quota 102, pensione a 64 anni con 38 di contributi. Tecnici al lavoro per evitare che dal 2022 i requisiti di età aumentino in modo brusco. La nuova quota costerebbe 2 miliardi e mezzo l'anno e sarebbe meno onerosa di quota 100. E intanto secondo l'Istat l'abbiamo visto l'occupazione record a novembre 59,4%. Mai così dal 1977. Comunque lo ripeto per completezza della notizia sono dati sicuramente parziali. Autostrade declassata da Fitch. Ora Bay e CDP possono chiudere i fidi. Revoca o revisione i sette nodi della trattativa. Intanto il rimborso anticipato riguarda potenzialmente prestiti per 2,1 miliardi. La Popolare di Bari, in questione che tocca anche l'Abruzzo, per la Popolare di Bari servono anche altri soci privati per uscire dalla crisi. Anche qui leggiamo la questione, vedete questa montagna di rifiuti in fiamme, terra dei fuochi senza commissario, l'emergenza ambientale è sempre gravissima. Ma vediamo anche una panoramica sulla politica interna. Bufera sui 5 Stelle, fra nuove addie e iniziative contro Di Maio e Casaleggio. Ma è interessante anche le elezioni in Emilia Romagna, decisive per il governo, sempre più vicine. Emilia Calo, del PD, penalizza Bonaccini, ovviamente, che è il candidato del Partito Democratico, che comunque secondo gli ultimi soltaggi risulterebbe leggermente in testa davanti alla Borgonzoni, la candidata leghista. Aereo Ucraino, USA e Canada colpito da missile iraniano, la replica dell'Iran è senza senso, l'ipotesi che sia stato abbattuto da noi, Tehran, quindi nega fermamente. Intanto spirano venti di guerra, ma l'algoritmo porta la calma sui mercati, quindi abbiamo detto che queste tensioni non hanno avuto un impatto così importante sulle borse. Andiamo sul secolo di Storace, buttateli giù dal palazzo e l'appello del secolo, bisogna mandare a casa Conte e la sua banda, ridicoli nel mondo, incapaci in Italia, il popolo non li vuole più, in primo piano ovviamente immancabile sul secolo, fratelli d'Italia. Meloni supera pure Salvini, gradimento alle stelle, arriva il Germanicum, fratelli d'Italia, che scempio grillino, i 5 Stelle perdono altri due pezzi e la camera nuovi a D, il gruppo misto è sempre più consistente. La verità di Maurizio Belpietro, c'è l'impronta di Mattarella sul disastro libico di Conte, l'Italia sempre più fuori dai giochi. Il presidente Mattarella, ovviamente, che ha fatto scudo al Premier nella sua ostinazione a tenere le deleghe sui servizi, era informato dell'operazione Haftar Serraj, poi miseramente fallita dagli Stati Uniti. Si arrivano chiari segnali di irritazione nei confronti del Colle e pure per la deriva cinese, il tentativo di riprovare l'inciucio con Forza Italia. La foto notizia, si sfilano gli uomini della Carfania, slitta il referendum contro il taglio dei parlamentari. I nuovi scontini elettronici inquinano di più, i giallorossi si riempiono la bocca con la svolta verde, ma il loro provvedimento anticontante va in direzione opposta. Grande spreco di carta, non riciclabile e potenzialmente nociva e costi maggiorati per i negozianti, oltre ovviamente alla questione privacy. Il blitz anti-Iran, Trump ha vinto, ma i media lo trattano come uno scemo e lo schierarsi a fianco del presidente statunitense da parte della verità. Intanto strage per errore l'aereo colpito dai missili di Teheran. Ma torniamo in Italia, gli stregoni di Bibiano credono nei marziani. L'avvocato di Foti rilancia le strampate teorie di un americano. Andiamo sull'avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Sperare la pace, queste le parole del Papa. Il Papa parla al corpo diplomatico, moderazione da scongiurare una guerra tra USA e Iran. Francesco, patto educativo per cambiare modello di sviluppo ed evitare conflitti. Occorrono dialogo e riforma dell'ONU. L'Europa si svegli e recuperi il suo ruolo. In Libia, Aftar, niente tregua, rappresentante di Serrage a Roma. Snobba Conte. A proposito della politica estera con la Brexit, addio Erasmus, studenti a rischio, isolamento. Voto negativo del Parlamento, ma il Governo cerca di mantenere un legame con il programma dell'Unione Europea. Intanto Di Maio è nella tempesta, maggioranza in panni, altre due defezioni nei 5 Stelle. Verifica ferma sulla prescrizione. E a proposito di quei dati Istat che dicevamo, sull'avvenire c'è un titolo più completo. Ecco, record di occupati, ma con meno ore. E allora andiamo ora sullo sport di calatura nazionale. Ecco il Corriere dello Sport. Ovviamente l'attenzione è tutta sul calcio. L'ora capitale, fatto storico. Nello stesso weekend lo Scudetto entra per ben due volte all'Olimpico che a giugno ospiterà tre partite dell'Euro Italia di Mancini. Domani Lazio-Napoli e domenica Roma-Juve. Lo sprint della Lazio, l'arrivo di Fredkin, la vittoria di Lotito. Nella contesa per l'elezione del presidente della Lega riportano Roma al centro dei giochi. Sinzaghi centra il decimo successo e Fonseca batte Sarri, anche il tricolore. Torna in ballo con le Romane in prima linea. E il Napoli fa il bis, ecco Lobotca dopo Demme, colpo Fiorentina. La Serie A ritrova Cutrone. Andiamo avanti sulla Gazzetta. Il futuro al Max. Milan, piano per la rinascita. Idea Allegri alla Ferguson. Far cassa coi Big e tenere Gigio. Il diavolo è un ritorno dall'inferno in due tappe. Vendere Piatek, Suso e Calanoglu. E poi dalla prossima stagione affidarsi all'ex tecnico che vediamo qui in primo piano. Rigori Granata, Sirigu para Berenguer goal, resa del Genoa Toro ai quarti. Ronaldo ricordi Florenzi, le beffe di Roma-Juve e sarà il match più ricco. Caldara torna a casa dall'Atalanta per ripartire per quanto riguarda gli ultimi colpi di mercato. Ma vediamo anche l'Inter nel taglio alto. Un'Inter scatenata, aria di scambio che è sipolitano. Lunedì Young per la firma e si riaccende la pista Giroud. I nerazzurri restano in pressing su Vidal. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa su Tutto Sport. Salvatoro Sirigu ai quarti di Coppa Italia ai rigori. Botta e risposta, Favilli e De Silvestri nel primo tempo. Poi tiri dal dischetto, decide la parata del portiere Granata. Nella fotonotizia, il futuro della Juve vale già 250 milioni. Da De Ligt a Kulusevski, i ventenni presi e prenotati dai bianconeri rappresentano un patrimonio economico e tecnico di alto livello che può garantire altre stagioni vincenti. Intanto abbiamo visto Young all'Inter via libera United, Vidal Oeriksen, Marotta Cepoli, Tano Milan, i soldi da Piatek. L'affare sarà solo a titolo definitivo. Ma allora per il momento sospendiamo la nostra rassegna stampa. Vediamo le previsioni meteo per questo venerdì. Ma subito dopo andremo ad approfondire la cronaca tutta abruzzese sui quotidiani locali. A tra poco. Grazie. 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 Grazie a tutti. Allora. Allora, ne rangiamo uno per ogni quotidiano, dai. Il primo dal centro, il secondo dal messaggero e il terzo dalla città. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 All'inizio. A proposito di periferie Fontanelle vuole il centro giovanile, gli amministratori comunali incontrano anche residenti di Zanni e di via Rigopiano, ma adesso guardiamo più da vicino quel che è stata la passerella di ieri a Rancitelli nel nostro servizio. L'omicidio Cervoni la mattina del primo gennaio scorso ha riacceso a pescare riflettori anche a livello nazionale su degrado e sicurezza nel quartiere Rancitelli. Per questo è previsto il 10 gennaio un summit convocato dall'assessore regionale all'edilizia residenziale pubblica Quintino Liris per discutere il destino del ferro di cavallo dopo aver ascoltato la proposta dell'amministrazione comunale il quale vorrebbe in parte abbattere la costruzione almeno nella parte centrale che attualmente conta 120 alloggi dei quali solo 70 assegnati regolarmente. Al tavolo di lavoro parteciperanno inoltre Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale, il sindaco Carlo Masci, il presidente Ater Mario Lattanzio ed il presidente della regione Abruzzo. Proprio Marsiglio nel pomeriggio insieme a Carlo Masci ha voluto rendersi conto di persona della situazione di questi quartieri ascoltando residenti e associazioni. L'impatto negativo del fatto che la dennesima dimostrazione che la politica seguita nei decenni precedenti di utilizzare le case popolari i quartieri di edilizia economica e popolare come discariche sociali non potevano che produrre questi effetti. Dal punto di vista architettonico edilizio non è nemmeno particolarmente impressionante rispetto ad altri contesti urbani dove ci sono altri esperimenti ben peggiori. Certo che se però dentro un edificio del genere ci si concentrano tutte le marginalità sociali e delinquenziali della città è difficile che le persone per bene possano integrarsi e vivere serenamente. Adesso ci vuole un duro lavoro che stiamo conducendo e affiancheremo l'amministrazione comunale con forza per ripristinare legalità, civiltà all'interno di questo comprensorio. Domani ci sarà una riunione tra le diverse istituzioni coinvolte in cui getteremo le basi per un programma più radicale, per un programma a lungo raggio e prendere di petto questa situazione come non è mai stato fatto in passato. Io credo molto nei programmi di sostituzione edilizia, credo che però chiaramente non è la sola cosa che dobbiamo fare. Intanto abbiamo messo soldi che non avevano mai visto in bilancio sia nell'anno precedente che si è appena concluso che in questo anno per poter effettuare davvero gli sgomberi. Abbiamo approvato una nuova legge più rigorosa per poter mettere in condizioni i comuni e le ATER di gestire nel rispetto della legalità l'assegnazione degli alloggi, quindi abbiamo già fatto delle cose importanti e andremo avanti su questa strada. Un intervento di abbattimento di una parte del ferro di cavallo credo sia assolutamente necessario, non soltanto, poi ci sarà l'abbattimento degli immobili a Via Lago di Borgiano perché noi dobbiamo eliminare delle situazioni di degrado, non dobbiamo ricostruire in quelle zone, dobbiamo creare spazi dove i cittadini possano sentirsi parte di una comunità. Io ne ho parlato con il prefetto, con il questore, con il procuratore dell'esercito, loro sottolineano il fatto che oggi questi quartieri sono molto controllati, sull'esercito il discorso è più complesso e soprattutto le regole di ingaggio dell'esercito da quello che dicono il questore e il prefetto impediscono un controllo diretto che invece c'è con i carabinieri e con la Polizia di Stato. Terremoto all'ASL di Pescara, lo leggiamo sul centro, ispettore ASL accusato di corruzione, pagate ai figli prestazioni fittizie. Giorgio Robuffo, imputato insieme ai titolari di una società di formazione, si difende in tribunale, la procura contesta, compensi non dovuti ai familiari del funzionario per un totale di 57 mila euro. Andiamo avanti, sequestrato, centro scommesso abusivo, blitz della finanza, l'attività veniva svolta senza autorizzazione per conto di un bookmaker austriaco e il quinto caso in città. Rapina il market, arrestato e già in libertà, giovane ruba cibo alla Lidl di via Socrate, ferisce la cassiera e fuggia in bici, preso dalla Polizia, un pericolosissimo ladro di cibo. Appello del sindaco agli artisti, sulle pagine di Montesilvano, esibitevi nell'arena del Giova Party, la spiaggia che ha ospitato lo show di settembre, sarà messa a disposizione dei grandi eventi. A ferragosto la manifestazione è l'Ovo 80, per i giovani una star del genere indie o reggaeton, per quanto riguarda l'intrattenimento a Montesilvano. Raccolti i 10 quintali di alimenti, per quanto riguarda la Befana del Vigile, ma la giunta De Martini s'assegna a nuove deleghe. Silli si occuperà di sanità e protezione civile, istruzione e disabilità nelle mani del primo cittadino. Muore a 34 anni, stroncato da un malore. Si tratta di Flavio Di Pierdomenico, che lavorava a Medarò, fu consigliere per nove anni durante l'administrazione di Marco ad Abbateggio. Andiamo avanti con la questione dell'inquinamento. Smog alle stelle a Francavilla. L'Arta, aria scadente per otto giorni. La centralina ha indicato il superamento dei limiti delle polveri sottili. Più volte tra dicembre e gennaio. Luciani, a primavera, avremo i monopattini elettrici, ma il problema deve coinvolgere tutti i comuni. Comunque non basteranno di certo i monopattini a risolvere questa situazione. Palazzo Sirena, no al progetto di Luciani, arriva dalle opposizioni. Amianto, bando per ottenere i contributi, il beneficiario riservato ai proprietari di case e ai condomini situati nel territorio di San Giovanni Teatino. A proposito di ambiente, andiamo a Bussi, la discarica più grande d'Europa. Piromane è scoperto grazie alle telecamere. I carabinieri forestali di Pescara hanno denunciato un uomo di 65 anni. Il 29 ottobre incendiò mezzo ettaro di bosco e altri due terreni incolti. Andiamo avanti su Chieti e la campagna elettorale ormai iniziata. Quest'anno si voterà a Chieti. Di Stefano guiderò Chieti sia al patto con l'università. Prima uscita per il candidato della Lega risveglierò la città con l'orgoglio teatino. Via alle consultazioni con le liste civiche, pronto ad allargare il centrodestra. Decisivo passo indietro per non ostacolare Marsilio in regione da parte del candidato leghista. Intanto di Paolo lista quasi chiusa, correremo con facce nuove per quanto riguarda giustizia sociale. La cronaca, ubriaco e drogato, uccise due giovani ma è già tornato a guidare l'auto. I genitori di una delle vittime in attesa di condanna all'imputato restituita alla patente. Martedì l'accusato sarà dal giudice. Il PM li contesta anche l'aggravante della colpa cosciente. Prostitute nel circolo privato a San Vito Chietino, denunciati i tre gestori del locale. Andiamo avanti a Teramo. Fusione delle Camere di commercio. L'Aquila di Fida Teramo che risponde si deve aspettare. Il Presidente Santilli chiede alla Regione di procedere subito all'unificazione e minaccia azioni legali. Lanciotti sollecita invece Marsilio ad attendere l'8 di aprile quando si pronuncerà la Suprema Corte. Intanto il 21 marzo all'Università Rocco Sifredi al convegno sulla sessualità dei giovani da parte del pornoattore abruzzese che di sessualità ne sa sicuramente qualcosa. C'è l'elenco dei 31 aspiranti manager della ASL da succedere allo scomparso Fagnano. Intanto la questione della Popolare di Bari. Il Sindaco di Teramo in audizione alla Camera ha detto su Popolare di Bari serve un forte intervento politico. Allora ascoltiamo le parole del Sindaco nel nostro servizio. Il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto in audizione alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha voluto ribadire che il passaggio del 2015 che ha portato una terca sin dissesto all'interno di Popolare di Bari sotto la spinta di Banca d'Italia non è stato la causa del crack dell'istituto di credito pugliese che a dicembre è entrato in commissariamento e poi successivamente è stato oggetto del decreto da parte del governo Conte per il suo salvataggio. Nel corso del suo intervento D'Alberto ha sottoposto all'attenzione dei deputati l'impatto che la banca ha sul territorio soprattutto in un abruzzo gravato dalle problematiche della ricostruzione. Per riportare un po' di verità perché c'è stato un messaggio preoccupante perché se tu individui il problema e individui che quello è stato il problema che ha determinato la crisi poi la prima operazione per la soluzione del problema può diventare quello, cioè intervieni lì dove tu hai individuato il problema. Ovviamente non è così, questo va ribadito con chiarezza, ma lo dicono i numeri. Nell'audizione alla Camera dei Deputati, oltre ad Alberto, sono stati sentiti anche i pareri di Enzo De Caro, sindaco di Bari e dei rappresentanti di Banca d'Italia. La vice direttrice generale di Banca d'Italia, Alessandra Perrazzelli, ha sottolineato come la trasformazione della Banca Popolare di Bari in S.p.A. sia molto importante e rappresenti un passaggio cruciale che deve avvenire in tempi molto molto stretti. Perrazzelli ha aperto ad un ristoro per i risparmiatori nei casi di comportamenti scorretti registrati in occasione degli ultimi aumenti di capitale e poi sulla questione della vigilanza oggetto anche di polemica politica, ha ribadito la correttezza dell'operato di Banca d'Italia. Nelle ultime settimane ci sono stati molti commenti, critiche sul nostro operato, si sono diciamo concentrate in particolar modo sia sull'operazione di Tercas che sui tempi del nostro commissariamento. Su Tercas quello che intendo dire in estrema sintesi è che l'operazione aveva il chiaro obiettivo strategico di aiutare Tercas e di aiutare anche l'obiettivo strategico di sviluppo della Bari per linee esterne che era previsto in un piano industriale già del 2012. Ed ora tutto d'un fiato fino al termine di questa rassegna stampa, torniamo sulla pagina aquilana del centro, traffico di rifiuti, sequestri e quattro indagati, vasta operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, svela collegamenti con l'area della Campania, la questione della criminalità organizzata sembra lontana dalla regione Abruzzo ma vediamo che estende i suoi tentacoli fino a noi e anche sulle questioni ambientali. Andiamo rapidamente sul messaggero autostrada Marsilio contro la Parati, l'ipotesi blocco dei TIR, lo abbiamo ascoltato direttamente dalla sua bocca nel nostro servizio, contributi europei per i centri abitati, primo intervento a Città Sant'Angelo e intanto si espira il Presidente del Consiglio regionale risolto il problema dei vitalizi. A Pescara, Marsilio, legalità e civiltà a Rancitelli, il Presidente della Regione annuncia iniziative insieme con il Comune nel quartiere simbolo del degrado sociale, la di Credico, la demolizione non risolve il problema. Una frase rivolta direttamente al primo cittadino Carlo Masci, intanto la finanza scopre e sequestra una sala scommesse abusiva a Pescara. Andiamo avanti, Masci, noi sindaci pronti a manifestare per la Popolare di Bari, il primo cittadino pescarese pronto a coinvolgere i colleghi in un'azione di lotta a tutela delle filiali Ex Caripe e Tercas, intanto consulenze Asle imposte alle ditte, nel mirino i soldi ai figli di Robuffo. Nuova Pescara, basta Manfrine, una questione davvero annosa questa che chissà se giungerà mai a una conclusione. Antonelli ha convocato per il 23 l'Assemblea Costituente e suona la sveglia, ha fatto poco, nulla in un anno e mezzo. Fidanza, Presidente della Commissione Statuto, lavora al regolamento Il fronte del no, chiamato allo scoperto. All'Aquila, l'Accademia dell'immagine all'asta e l'ex fiore all'occhiello basteranno 503 mila euro il primo febbraio per acquistare l'immobile in abbandono. E sempre all'Aquila è arrivato il nuovo prefetto Torraco che coordinò i soccorsi nel 2009. Andiamo rapidamente avanti. A Chieti di Stefano, il mio progetto sul rilancio di questa città, è lui il candidato sindaco della Lega, incoronato da Salvini. Valorizzo Lateneo ha detto, si attendono le risposte degli alliati del centrodestra per un'unica formazione. Night e prostituzione, tre denunce. Costa dei Trabocchi, due uomini di Pescara e San Vito Chitino e una donna ucraina sono finiti nella rete dei controlli di polizia. Finti circoli culturali trasformati in alcove. I clienti sono stati sorpresi con ragazze straniere in atteggiamenti intimi. Emergenza Acqua, servono fondi per sistemare la rete Colabrodo a Vasto. Andiamo a Teramo, Asl, caccia al nuovo manager in pole position. C'è Di Giosia, un elenco di 24 candidati, ci sono anche Shell e Damario. Ruzzoretti dopo Forlini lasciano Grotta e Coglitti, ma andiamo sull'A14. Camionisti, fate chiarezza, facchinette a rischio di rifornimenti di medicine, viveri e di aziende come la Sevel e il Cerrano va sistemato. Intanto nei giorni scorsi sono rimaste imbottigliate nel traffico anche alcune ambulanze, per fortuna senza gravi conseguenze. Intanto una questione che interesserà sicuramente tutti i giuliesi, l'auto del sindaco coperta di disputi, la prefettura ha ok al Daspo Urbano e la ripressione, l'arma per bloccare il dissenso a Giulianova. La misura sarà discussa in Consiglio Comunale, Ivan Costantini era stato già aggredito in Comune. Ricordo che secondo l'articolo 9 del decreto Minniti il Daspo Urbano può essere applicato praticamente a chiunque non possa essere tacciato di non rispettare il decoro urbano, specialmente in prossimità di zone di particolare pregio turistico, storico o dei nodi infrastrutturali. Andiamo avanti, prima di leggere lo sport, a leggere i titoli della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'Abruzzo accelera sui fondi europei, il Presidente Marsilio inaugura il viaggio nei cantieri avviati partendo dal territorio di Città Sant'Angelo. Intanto i trasporti, 70 milioni per comprare nuovi autobus eco-sostenibili. E' sempre in regione, nuove risorse anche per le piccole imprese del cratere sismico. In cantiere anche importanti investimenti sugli edifici presenti a Pescara e all'Aquila. Andiamo avanti, 50 leggi approvate lo scorso anno, lo ha detto Sospiri, per l'attività svolta dall'Assemblea legislativa durante il 2019. La Popolare di Bari, la forza di Tercas, occasione di rilancio. Il Sindaco d'Alberto in audizione alla Camera ribadisce che Teramo non è stata affatto la tomba di Bari. Ruzzo, mossa astuta verso d'Alberto. Dopo Forlini lasciano anche il Presidente Cognitti e il Vice Grotta, certi della rielezione. Per questo la mossa è astuta. Andiamo avanti, il nuovo direttore dell'Asla all'inizio di febbraio. Ecco i nomi di tutti i 24 candidati, ne vedete alcuni in Lizia di Giosia, Damario, Cordone, Maraldo, Figorilli e Gentili. Per quanto riguarda la ricostruzione, intanto le spese per il CAS hanno superato quelle per i danni. Una pagina fantasma, la recuperiamo subito in questo modo. Eccola qui per magia. La Camera di Commercio, Teramo respinge il pressing aquilano. Il Presidente Lanciotti risponde alla diffida dell'Aquila chiedendo a Marsilio di attendere l'8 di aprile. Intanto a Teramo martedì il Consiglio Comunale question time, dove si dovrebbe rispondere appunto nella seduta all'auditorium del Parco della Scienza. Isola del Gran Sasso, gli alunni entrano nella scuola antisismica. E' completato il trasferimento degli studenti delle elementari nella struttura adeguata dalla Croce Rossa. Si apre uno spiraglio per il dissequestro, secondo la città, per quanto riguarda il caos della viabilità. Nuove buone notizie dall'incontro tra Aspi e Ministero. Decisione definitiva prevista per la giornata di lunedì. Intanto all'ultimatum il Presidente Marsilio ieri ha minacciato di vietare l'ingresso di Tirra nel territorio della nostra regione. Lo ha fatto direttamente ai nostri microfoni. Lo sport lo leggiamo a partire dal centro, andando subito su quello che riguarda lo sport regionale. Ovviamente la Serie B con il Pescara. Fiorillo rotta a playoff, magari con Moreo. Il capitano rientrato dopo un lungo stop. 2019 agrodolce. Agrodolce alla finestra per la trotta del Frosinone. Si aspettano le mosse delle Big e il Chievo offre il Rodriguez, ma non interessa. Per quanto riguarda il Teramo, invece sfida la Sicula Leonzio. Tedino torna al 4-3-1-2. Bombaggi è un rebus in Serie D. Il Giulianova cambia, si passa al 3-5-2. Barlafante verso il Catanzaro. Leggiamo anche il basket. Bobby Jones via, offerta importante per quanto riguarda Roseto. Leggiamo anche il calcio al 5. Il sapone è implacabile. Ottava vittoria di fila. Domani in sera scenderà l'altra squadra pescarese, la Color Max. Andiamo ora a vedere anche le principali notizie sportive del messaggero. Per vedere se c'è qualche nuova indiscrezione sul calcio mercato. Fiorillo chiude il caso Memuschai. Il capitano del Pescara archivia la querella tra l'albanese e il tecnico Zauri. L'Edian è felice con noi e non vuole muoversi, ha detto il portiere del Pescara. Intanto si apre l'asse con l'Inter. Renco tutti i nomi per quanto riguarda il mercato. Per quanto riguarda il basket, invece, Roseto. Voglio fare bene con Milic. Lo sloveno Nikolic si presenta, ricordando le imprese del leggendario connazionale. Andiamo ora sullo sport secondo la città, che si presume avrà un occhio di riguardo per la Serie C. E infatti Teramo finalmente si ritorna a giocare. Domenica pomeriggio l'impegno con la Sicula Leonzio. Tedino conferma il modulo con due punte. Per quanto riguarda il basket, sempre l'attenzione sugli Sharks di Roseto. Gli Sharks rivoluzionano il proprio assetto. Entrando nel calendario vedrà la squadra di Dark Angeli sottoposta. Un tour de force. Jones da rinforza ad avversario. Ma Roseto prende Mitia Nikolic. E con lo sport concludiamo la rassegna stampa di questo venerdì 10 gennaio. Anche oggi vi abbiamo raccontato l'informazione secondo i quotidiani abruzzesi. Ma ovviamente l'informazione odierna non si esaurisce qui. Ma torna alle 14 con il TG6. In cui avremo notizia anche della riunione tra le agenzie regionali, i comuni e le istituzioni. Per quanto riguarda la viabilità nella nostra regione. Io vi ringrazio per aver iniziato la giornata con noi. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.